Se pensi che la tua vita sia investire nel bene comune per migliorare il futuro, aiutare gli altri, combattere le ingiustizie, restituire il sorriso a chi lo ha perso, vivi il tuo futuro da protagonista, scegli di diventare maresciallo dei Carabinieri. Se hai compiuto 17 anni e ti stai diplomando, consulta l'area concorsi del sito www.carabinieri.it. La tua scelta siamo noi. Grazie a tutti.